In Egitto, dopo il doppio attentato della Domenica delle Palme, rivendicato dall'ISIS alle chiese cristiano Coppe, in cui hanno perso la vita 47 persone, il presidente Al-Sisi ha dichiarato lo stato d'emergenza di tre mesi con il rafforzamento delle misure di sicurezza, specie nella Domenica di Pasqua. Tra i provvedimenti aree cordonate intorno ai luoghi di culto, divieto di parcheggio vicino alle chiese, aumento delle pattuglie di sorveglianza. In tutti gli spazi pubblici si vedono agenti in borghese, questo in aggiunta alle pattuglie in diverse aree, in modo che possano intervenire rapidamente nel caso dovesse esserci un'eventuale emergenza. I copti d'Egitto rappresentano la più grande comunità cristiana del Medio Oriente, almeno il 10% del paese. Un'apertura da parte dell'ISIS del fronte egiziano nata negli ultimi mesi per le difficoltà che il califato sta incontrando nelle altre zone in cui è già impegnato militarmente.